Una squadra veramente fatta bene in corsa, una squadra con una chimica giusta tra italiani e americani, una squadra che gioca bel basket già durante la Supercoppa, inizio del campionato, vittoria contro Bologna a Bologna, è veramente una bella vittoria, uguale partita contro Trento, abbiamo visto l'ultimo sabato dove sono stati inizio secondo tempo più 19, alla fine l'ha perso ma meritavano vincerla. Una squadra che gioca molto semplice, un buon basket, una squadra che ha il sistema di gioco adattato prima di tutto per caratteristiche individuali ai loro giocatori. La vittoria di Roma ha fatto fare un passo avanti dal punto di vista anche psicologico, una squadra che ha gestito molto bene i momenti decisivi, coach. Sì, una vittoria per noi straimportante, ogni vittoria per noi è straimportante perché sappiamo che arriviamo da un periodo dove non si è vinto tanto e per questo ogni vittoria per riprendere fiducia, per andare avanti, per essere più competitivi ci fa bene. Speriamo, speriamo uguale a domenica, riusciremo a vincere di nuovo e sarebbe veramente molto importante per la nostra squadra. Coach Filippovici si è allenato poco e anche Delfino non è al massimo della condizione. Sì, uguale a Henry. Drell arriva da una sosta più lunga. Filippovici non si è allenato oggi, vediamo che cosa succede, riuscirà domani, riuscirà a giocare dopo domani. Nello stesso tempo Carlos non si è recuperato al pieno ma sicuro sarà in roster per aiutare queste ragazze più giovani. Grazie. Grazie. Grazie.